A me personalmente di diventare nonno mi sarebbe piaciuto, ma non è, non l'ha prescritto il medico, per cui vedo che a mano a mano che si va avanti con l'età forse è meglio essere più tranquilli e quindi secondo me rientra, però sinceramente rientra tutto nell'egoismo, per me rientra l'egoismo, perché parlando anche con mia figlia, con mio genero, anche dice no, no, a me i figli, no, 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 io non voglio rotture di scatole, qua e là, come dicono a Roma i figli sono belli, però quelli degli altri, a Roma dicono anche chi li fa se li ulli, chi li fa se li trastulli e questo fatto ad esempio di tante figlie, tante mamme, tante mamme moderne che però scaricano tutto al nonni, questa è anche la figura del nonno, è come che si è rivalutata, perché? Perché queste nuove generazioni non è che siano poi così tagliate per fare le madri, anche fare la madre è un incarico ma molto, molto, molto duro, per cui se possono esautorarsi, si vede spesso, ma dove vai? Ah, vado da mia madre a portargli il bambino, insomma, noi non l'abbiamo fatto, noi gli abbiamo fatti i figli però ce li siamo trastullati.